L'Isola dei Famosi cambia volto, le novità shock della prossima edizione. L'Isola dei Famosi è giunta al termine con la vittoria di Aras Senol di Terra Amara. Due giorni dopo la finale, i finalisti hanno deciso di fare qualcosa di memorabile, e tutti si sono emozionati vedendo ciò che è accaduto. Sui social sono apparse delle immagini inequivocabili, e il pubblico ha gradito non poco questa situazione, il che dimostra che tra i naufraghi si è creata una forte unione. Alla fine, solo uno è stato in grado di vincere l'Isola dei Famosi, ma i finalisti si sono mostrati in un modo molto particolare. Hanno anche organizzato un evento significativo che sarà ricordato a lungo dai protagonisti. Vediamo insieme cosa hanno fatto una volta conclusasi l'esperienza in Honduras con il successo dell'attore turco. Isola dei Famosi Cosa hanno fatto i finalisti nelle ultime ore dopo l'Isola dei Famosi, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco, Arthur Dainese e Alvina Verecondi Scorteci, si sono fatti vedere insieme. Tutti hanno vissuto emozioni fantastiche nel reality show di Vladimir Luxuria, e lo hanno dimostrato ancora una volta. Sui social sono state pubblicate immagini davvero belle e coinvolgenti. Dopo aver lasciato l'Isola, si sono recati al resort utilizzato prima dell'avventura e si sono sistemati prima di rientrare nel nostro paese. I finalisti hanno partecipato insieme a una meravigliosa festa e il loro atteggiamento è stato estremamente positivo. Infatti, si sono mostrati con il sorriso stampato in faccia e si è potuta notare la gioia del ritorno in Italia. Grande complicità tra coloro che hanno condiviso fino all'ultimo istante l'esperienza in Honduras. Ora è tempo di ritornare alla vita di prima, ma chissà se si frequenteranno anche nei prossimi mesi. L'evento organizzato dai finalisti dell'Isola dei Famosi non si è limitato solo a una semplice festa. Hanno infatti deciso di rendere omaggio all'esperienza vissuta insieme, creando un video ricordo che raccoglie i momenti più significativi della loro avventura in Honduras. Il video, condiviso sui social, ha subito raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti entusiastici da parte dei fan del programma. Aras Senol, il vincitore, ha espresso la sua gratitudine verso i compagni di viaggio e lo staff del programma, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia arricchito sia a livello personale che professionale. Non dimenticherò mai i momenti difficili e le risate condivise con tutti voi. Porterò sempre con me questi ricordi, ha dichiarato Senol in un post toccante. Nel frattempo, Edoardo Stoppa e Samuel Peron hanno annunciato di voler continuare a lavorare insieme a nuovi progetti televisivi, sfruttando la visibilità e il legame creatosi durante il reality. Arthur Dainese e Alvina Verecondi-Scortecci, invece, hanno già in programma una serie di incontri con i fan in diverse città italiane, per condividere le loro esperienze e rispondere alle curiosità del pubblico.